Da Angelo di Giovanni, al capitolo 14esimo, vi troviamo le affermazioni fondamentali della Chiede Cristiana, che sono le stesse parole di Gesù che giungono fino a noi oggi. Egli che dice, io sono la mia, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Signore Gesù, nostra gioia, nostra speranza, grazie per averci illuminato sul vero significato dell'amore di Dio. Abbi misericordia di noi, tu, unica via di salvezza che riconduce l'uomo al Padre. Ascolteremo ora un brano di Alvarez, Legalia, che sarà cantato dal terrore William Hurtag. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.